Salve amici, sono il vostro Gesù Stenton e ho una domanda da farvi. Siete soddisfatti del vostro addome? O la vostra trippa sta invadendo l'Europa? E sono anni che non riesci più a vedere i tuoi piedi? Niente paura, solo con l'originale Super T-Shirt l'addome è piatto in un secondo, basta indossarla. L'originale Super T-Shirt è il prodotto brevettato che farà sparire la vostra buzza e la farà crescere al vostro vicino. La tecnologia non molto trippa è un marchio brevettato. I rischi di implosione sono minimi, solo uno su sette. Fai ore di inutile attività fisica senza risultati? Da oggi sarà solo un brutto ricordo, grazie a Super T-Shirt. Ma guardiamo insieme il nostro amico. Hai una buzza enorme che sembra Saturno senza anelli e con più peli? Niente paura, solo con l'originale Super T-Shirt non rinuncerai più ai tuoi piatti preferiti. Aumenterà lo stesso la tua autostima. Non perdere tempo, chiama subito il numero 189 Super T-Shirt 657. Il pacco della vera Super T-Shirt sta già arrivando a casa tua. Solo con la vera Super T-Shirt di Jason Stanton il risultato è immediato e tornerai subito alle tue abitudini. Ma ricorda, non bagnare e non usare al sole la tua Super T-Shirt. I rischi di esplosione comunque sono minimi, solo uno su sette. Il No More Tripper Pack di Super T-Shirt sta già arrivando a casa tua. Ma ora basta sport, la soluzione è Super T-Shirt. Chiama subito l'189 Super T-Shirt 657. Ma affrettati, le scorte stanno per finire. E solo per oggi, una al prezzo di 14... Eh, 14 al prezzo di una. Risultato garantito in un secondo. Parola di Jason Stanton. Hi, I'm Federico Pertigone. Anche io uso la Super T-Shirt. È eccezionale. Grazie Jason Stanton. Bravo, bravo. Anche le sexy star la usano. Ora basta sport. La soluzione è Super T-Shirt. Chiama subito l'189 Super T-Shirt 657. Ma affrettati, le scorte stanno per finire. Solo per oggi, 14 Super T-Shirt al prezzo di una. Risultato garantito in un secondo. Parola di Jason Stanton.